il problema è che devo andare a ricaricare la batteria prima di venire in piazza si no io avevo la pelle 11 ti assicuro c'è il passaggio sopra ma averlo chiuso qui hai chiuso solo 5 di una che il telefono ok Sì, è possibile, adesso non mi chiami più. No, 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 volevo dire, no, no, era proprio per la conferma. No, no, era sicuro. Sono appena il cellulare e non scendo. No, no, volevo essere sicuro che si è messa. Ma è un collega, forse. Non sono un collega. No, volevo essere quello che usciva. E noi dicevamo scendi tanto ormai, gli ho detto la stampa, e c'è così. Perché non riesce a capire se si stava smontando o se stava rinforzando. No, la vostra scendeva, vuole scendere da sola. Sì, no, la discussione era che lui voleva scendere da sola. Ma è importante che non lo chiedeva. No, 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 era solo per quello. Che chiamare? No, siccome non riusciva a capire se stava rinforzando o scendendo. Ho detto che scendeva. No, sta scendendo? No, no, era solo per quello. Questo riscenderà da solo, però non lo chiamiamo. No, ma gli ho detto così se ne andiamo. No, gli ho detto, vieni che se ne andiamo in piazza. Vi aspettano anche di là, giustamente. Ho detto così se ne andiamo. No, no, adesso volevo la conferma se ne andavo via. Ok, va bene. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti